E vissero per sempre felici e contenti? Lui ha perso una gamba per la cancrena aspettando lei sull'isola, ma adesso sono insieme! Tutti vorrebbero saper parlare d'amore come nei film. Io non vi sto corteggiando Kate, se lo facessi come uomo d'onore vi avrei informata delle mie intenzioni per iscritto. E allora devi essere l'uomo venuto dal passato. A San Valentino dillo con Paramount. Dillo ancora? Con Kate e Leopold. Stasera alle 21.10 su Paramount Channel. Stasera alle 21.10 su Paramount.